Tragedia questa mattina sulla SP 175 Litoranea. A perdere la vita Umberto Gentile, 35enne di nocera inferiore, morto a seguito di un incidente avvenuto nei pressi dell'Isola Verde, sul confine fra Ponte Cagnano-Faiano e Battipaglia. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un'automobile che procedeva nel senso opposto. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi del Vopi e della Croce Bianca che hanno potuto soltanto constatare il decesso del 35enne. Sul luogo dell'accaduto anche la Polizia Provinciale, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e a chiudere la strada per qualche ora. Sono ancora in corso i rilevi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.